Trasmettiamo ora a Reti Unificate il messaggio di un'anonimo cazzone. Il messaggio sarà tradotto in due lingue, nel linguaggio dei semi e doppiato, perché quel cazzone ha rotto la telecamera. Salve! Oggi vi voglio parlare di Macherando. Macherando era una grande community di making e io le sono molto affezionato. Molto! Moltissimo! Mi mancherai, addio!